Gentili telespettatori, buona giornata. Non c'è solo la finta attività benefica Pandoro-Balocco, ormai ci sono le indagini e Chiara Ferragni e Alessandra Balocco sono indagate per truffa aggravata, quindi questa è la vicenda del Pandoro-Balocco che ormai conosciamo. Secondo alcuni media, la Guardia di Finanza di Milano, su ordine della Procura di Milano, sta approfondendo la vicenda delle uova di Pasqua realizzata con, io leggo scritto giochi preziosi, dolci preziosi, forse la stessa azienda, non lo so, qui leggo giochi preziosi ma potrebbe essere un errore dell'agenzia di stampa che ha scritto questa notizia, quindi leggo giochi preziosi ma potrebbe essere sbagliato, io ricordo dolci preziosi ma forse la stessa azienda, va bene. Questo è Uova Pasquali nel 2021-2022 e la donazione nel dicembre 2017 destinata alla fondazione Soleterre che segue bambini malati oncologici. Con riferimento ad alcuni recenti articoli che menzionano Soleterre, quale destinataria di una donazione fatta da Chiara Ferragni nel dicembre 2017, la fondazione comunica attraverso il suo presidente Rizzi Damiano, dice così il presidente, vogliamo precisare quanto segue perché può essere utile e traspanente. L'ammontare della donazione ricevuta da Chiara Ferragni a gennaio 2018 da fondazione Soleterre è pari a poco più di 4.000 euro, precisamente 4.215 euro. Tale donazione fatta a fondazione Soleterre è pervenuta nella forma di erogazione liberale diretta da parte di Chiara Ferragni. Pertanto la Ferragni ha fatto questa donazione, ha versato questi soldi. Pertanto la fondazione non ha avuto altro ruolo di quello di destinataria finale di erogazione liberare, nessun ruolo attivo e passivo in alcun processo di raccolta fondi. Non sono mai stati sottoscritti accordi commerciali tra la fondazione Soleterre e Chiara Ferragni o persone riconducibili a Chiara Ferragni e persone giuridiche, persone fisiche in relazione alla citata donazione. E poi si spiega e si precisa meglio, i fondi ricevuti sono stati impiegati nell'ambito delle attività che fondazione Soleterre svolge a favore del reparto pediatrico di fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Si precisa che la fondazione Soleterre non intende assumere alcuna posizione in merito alle attuali vicende di cronaca che interessano Chiara Ferragni. Come avvenuto nel 2017 in occasione dell'erogazione liberale, ringraziamo Chiara Ferragni per il sopracitato sostegno alle attività di fondazione Soleterre in aiuto ai bambini. Quindi la finanza indaga, nessun accordo commerciale, ma ci sono state poi delle pubblicità ingannevoli anche in questo caso che hanno fatto pensare a vendita di prodotti, di uova per pubblicità, per beneficenza, perché la fondazione dice abbiamo ricevuto questo assegno, punto e basta, noi non eravamo legati a nessun tipo di beneficenza, nessuna percentuale, ci sono arrivati questi soldi e ringraziamo. Così la Procura della Repubblica di Milano sta cercando di fare chiarezza sulla donazione annunciata dalla stessa influencer nell'ormai lontano 2017. Bene, intanto la fondazione Soleterre si è sentita in dovere di diramare questa nota, prendendo le distanze da ogni similitudine con la vicenda Balocco. Sono super felice di annunciare, scriveva la Ferragni su Instagram nel dicembre del 2017, pubblicando una propria foto di bianco vestita davanti all'albero di Natale, che tutti i guadagni di dicembre dal mio account D-Pop, l'applicazione su cui l'influencer vende abiti, borse, vestiti, accessori da lei già indossati, saranno devoluti alla Onlus Soleterre per il reparto di pediatria del Policlinico San Marteo di Pavia, con tanto di link allo store online in calce. Quindi la Ferragni che cosa ha detto? Allora io ho tutti i vestiti che vendo qua con questo link, tutto quello che vendo, non la vendita, il ricavato, il ricavato viene devoluto a questa Onlus. perché dice proprio così, tutti i guadagni di dicembre per la vendita di borse e vestiti e accessori saranno devoluti a questa Onlus Soleterre, con tanto di link commerciale, ma questa Soleterre non ha fatto nessun contratto commerciale con la Ferragni. Si informa con gratitudine poi segue che la fashion influencer Chiara Ferragni ha annunciato sul proprio profilo Instagram che sosterrà la fondazione Soleterre devolvendo il ricavato degli accessori presenti sul suo account D-Pop per tutto il mese di dicembre alla pediatria del Policlinico San Martino di Pavia. Ribadiva poco dopo Soleterre. Ora però a scanso di equivoci la fondazione precisa che la donazione della Ferragni è stata un'erogazione liberale e totalmente spontanea senza alcun tipo di accordo commerciale firmato o in essere. Con riferimento ad alcuni recenti articoli che menzionano solo terra quale destinatario di una donazione fatta dalla Ferragni, la fondazione dice proprio di aver ricevuto solo quei soldi e che di tutto il resto non ne sa assolutamente niente. Quindi erogazione liberale, nessun ruolo attivo o passivo in alcun processo di raccolta fondi, non sono mai stati sottoscritti accordi, contratti tra i due soggetti in relazione alla citata donazione. Se c'è stata qualche irregolarità, insomma, la responsabilità sarebbe solo di Chiara Ferragni. I fondi ricevuti sono stati impiegati nell'ambito delle attività della Fondazione Soleterre che svolge a favore del reparto pediatrico di Fondazione IRCS Policlinico San Matteo di Pavia. Vedremo anche se su questo verrà fuori qualcosa. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.